Adesso stiamo prendendo la 35 Esatto Ha bocciato, sono in tre e stanno scappando Ci sono tre persone a fondo Sì, hanno bocciato una macchina all'ingresso intergenziale 188, terza, stiera, andiamo sulla 35 verso 7 Ha bocciato due macchine, sono tutte e tre minori Sì, è bene Sì, è bene, è bene, è bene, è bene Sì, è bene, è bene, è bene Fermati qua, adesso arriva la polizia A lui Anche a lui, tu stai fermo, giù per terra Seduto Sì, è bene, fermati, è bene, arriva il mio Sì, è bene Sto rientrando perché stanno scappando a piedi Sì 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 Grazie a tutti.